veramente siamo molto felici di essere qua al reggio di torino che è un ricordo assolutamente meraviglioso devo dire che personalmente sono passati 27 anni quindi tutta una vita e siamo ritornati con questa produzione di tosca che abbiamo fatto con francesco zitto per il maggio musicale fiorentino nel 2008 produzione che ha girato parecchio è stata vista in spagna in francia in italia attualmente appartiene al massimo di palermo produzione nata anche sotto un concetto molto preciso che il fatto che ci chiedevano una tosca in un certo senso come quelli che dicono i critici sempre tradizionale perché la dovevano portare a un pubblico che in quel momento il teatro non aveva cioè un pubblico di gente giovane un pubblico di gente che non conosceva forse tutto il repertorio peristico e in più doveva avere certe condizioni tecniche che fosse una produzione che potesse andare in tournée quindi questa tosca si vale di una ricerca iconografica molto importante ci sono degli elementi presi ovviamente dal naturale come sono gli affreschi di santo andrea la valle la ricostruzione della sala del palazzo farnese e abbiamo fatto un cambio totale in quello che è la nostra prigione dell'atto terzo dove prescindiamo in un certo senso dell'angelo tradizionale non facciamo gli spalti se non facciamo piuttosto un'antecamera con una gratta molto forte e soprattutto in fondo lo stemma papale perché dopo di tutto è il potere che ritorna dopo l'invasione napoleonica nella caduta della repubblica romana in quanto costumi anche c'è una cura e più c'è un elemento in questa produzione che abbiamo cambiato che delizioso nel tedem appaiono tutta questa corte come se fosse un po' walking dead come se fossero un po' i fantasmi di un anziano regime quindi questa specie di tedem molto particolare nel quale questo momento geniale di Puccini con quello che chiude il lato primo ovviamente finisce con il tema del terrore di Scarpia con cui apre la opera quindi è uno spettacolo molto piacevole nel senso che per chi non conosce Tosca si ritrova con gli spazi che Puccini ha messo ovviamente rimaneciati in un certo senso nel lato primo vedrete un'enorme cupola che è la cupola di Sant'Andrea della Valle in un certo senso è la cupola del potere ecclesiastico che schiaccia la libertà di questi due personaggi c'è molta ricchezza nel lato secondo c'è una ricostruzione stupenda fatta per dei pittori di una bravura eccezionale che ricrea una stanza del vero palazzo frarnese e tale come detto il terzo c'è una libera interpretazione sebbene ovviamente l'estima papale e l'originale questo anche fa omaggio in un certo senso all'arte italiano di fare il teatro in un certo modo cioè la tecnica la manufattura e la qualità dei pittori dei costumi quindi ha una doppia una doppia visione di una parte interpretare Tosca di un'altra parte farla come gli italiani sempre hanno saputo fare io che sono argentino ma che sono un grosso difesore difendo l'opera italiana ovunque dove vado perché faccio di solito questo repertorio quindi è molto piacevole ritrovarsi dopo undici anni e penso 18 riprese che ancora questo spettacolo meraviglia perché ha il suo fascino e lo hanno fatto tutti ossia abbiamo fatto questa opera praticamente con tutti una produzione che andato tre volte in giappone quindi si può dire che un tradizionale chic con le sue cose quindi è molto interessante il fatto di ritrovarsi nel reggio di torino con tantissima gente che sa fare il teatro tantissima gente che ha l'amore per il teatro quindi ritroviamo ancora quello che si è perso ultimamente per tante circostanze che il fatto che tu non hai bisogno di dire un tecnico che è una piega perché lui lo sa la sartoria sa benissimo chi sono i ruoli e come devono vestirli come sono i cambi nell'attrezzeria ci sono i dettagli questo amore per il teatro che il reggio ha sempre avuto per questo è stato un grandissimo teatro quindi il piacere doppio perché poter fare una produzione curata in questi momenti un enorme sollievo quindi io ringrazio tantissimo tutto il personale che ci accompagna me no